Per ricordare questi 70 anni abbiamo qui una delle protagoniste alla quale chiediamo subito, insomma, che ricordo ha di quel giorno di 70 anni fa quando per la prima volta le donne hanno potuto votare. Il ricordo è un ricordo che mi fa direi ringiovanire. Le donne erano spaventate perché temevano che andare a votare, sfatare il fatto che la donna era fatta solo per la casa, per i figli, e prendere una posizione politica, le spaventava. Allora io non ero ancora una rivoluzionaria di professione. Come ha scritto nel libro. Ero solo un attivista della Federazione Partito Comunista di Terni che andava in giro con alcune compagni che erano mogli, sorelle, figlie dei compagni perché altre donne non si avvicinavano a noi perché avevano paura di essere considerate delle donne poco di buono, come venivano considerate le donne che nella politica... Oggi sembrerebbe l'opposto, insomma una che si impegna è considerata una donna interessante, invece in quel periodo c'era questo atteggiamento. Eravamo insultate, e molto, specialmente poi la cosa grave, che erano le donne stesse che si mettevano contro di noi perché ci consideravano delle donnacce che andavano in giro a predicare delle cose che erano contro la consuetudine normale che la donna stesse a casa, anche che non lavorasse, perché le donne che lavoravano da centurini erano considerate delle poche di buono. Quindi fu un lavoro difficilissimo, ma malgrado questo andammo casa per casa, caseggiato per caseggiato, a insegnare alle donne a votare. E le donne votarono, molte, moltissime. Ma ci fu una bella partecipazione. Ci fu una bella partecipazione. Fu un sacrificio enorme, noi non sapevamo più il giorno, la notte, eravamo sempre in movimento, perché non c'era solo Terni, bisognava andare in provincia, bisognava andare nell'Orvietano, nell'Amerino. Lei considera che nell'Amerino, dopo aver fatto un comizio, fu presa a sassate. Quindi questo era il clima in quel momento, e di passi ne abbiamo fatti tanti. Ma la legge aveva dei punti lagunosi, no? La legge fu decretata nel primo febbraio del 1945 da un governo formato dal Comitato di Liberazione Nazionale. L'Italia ancora era in guerra al nord. Solo nel momento del voto si accorsero che noi donne non potevamo votare, perché nella legge non c'era scritto che le donne potevano essere elette, tanto nei comuni, tanto nel Parlamento, tanto nel Senato. Questa fu modificata e quindi dopo si poteva votare. Ormai era troppo tardi, perché solo nel 1948, quando si votò per la Repubblica, non nel 1946, quando abbiamo votato per la Repubblica. Quando votammo per la Repubblica, allora mi pare che furono elette 41 donne. E lei consideri che poi dal 1946 al 1968, da 43 donne si era passato a 17 donne elette al Parlamento. In una realtà come quella ternana, dove c'erano pure tante donne operaie, quante donne erano impegnate in politica? Ma in politica piano piano ne sono venute molte, perché noi nel 1948 avevamo creato le cellule femminili in tutte le sezioni del partito. E i circoli UDI, che praticamente si appoggiavano non avendo i mezzi e i soldi, nelle sedi del partito. Quindi, dopo le elezioni della Repubblica, c'è stata una... E la lezione del 1948, di aver perso le elezioni, perché eravamo convinti di vincerle, avendo nel 1946 superato di poco le elezioni amministrative e la democrazia cristiana, non ci rendemmo conto con quale mezzi la democrazia cristiana aveva il potere di influire sulle donne. E la scomunica dei comunisti. E nella cabina Dio ti vede, Stalin no. Perché bisogna anche ricordarle queste, no? I comunisti mangiavano i bambini, i comunisti portavano la coda. Le donne comuniste erano baffute, erano brutte. Invece nel mondo cattolico c'erano donne impegnate, sì? Sì, erano impegnate, naturalmente, ma facendo una politica, diciamo, dal CIF, Centro Italiano Femminile, all'Azione Cattolica, alle parrocchie, era solo esclusivamente, non una politica di lotta per l'emancipazione della donna, perché la donna potesse studiare, perché la donna potesse lavorare, perché la donna potesse accedere a tutti i lavori possibili, immaginabili, che erano solo per gli uomini in quel momento, alla parità salariale. Loro svolgevano una politica esclusivamente anticomunista, questo è il discorso. E invece dal punto di vista dei diritti nelle fabbriche ci fu un grande impegno in quel periodo? Ma ci fu un grandissimo impegno perché io le racconto un episodio solo, anzi due, importantissimi, perché furono i primi due scioperi fatti esclusivamente dalle donne. Il primo, le tabacchine di Piediluco. Il barone Franchetti aveva comperato quei capannoni di metallo residuato bellico e siccome i tabacchini a Terni non esistevano, venivano da Lecce. E lì mangiavano, lì dormivano, lavoravano, stavano sempre lì. Finita la lavorazione del tabacco, il barone Franchetti presentò il conto e le donne si trovarono dopo... Deveva essere pagato per l'ospitalità. Quasi, quasi. Lei capisce che a un certo punto chi si ribellò? Si ribellò una ragazzina di 16 anni, Liliana Cerbelli, che era figlia di un mezzadro e organizzò uno sciopero contro il barone al quale si aggiunse tutta la popolazione di Piediluco a sostenere queste donne, eccetera. Il barone rifece i conti, ma l'anno dopo ricontinuò il sistema di sfruttamento di queste donne e veramente il sindacato in questa occasione ci diede un aiuto formidabile. Il secondo episodio che voleva raccontare? Delle donne di Centurini. Il direttore della fabbrica, anzi, devo precisare che le donne erano sorvegliate dagli uomini mentre lavoravano. Nella fabbrica non c'erano filtri, non c'erano cuffie, non c'era niente che potesse rendere il lavoro più facile, più respirabile l'aria. Però timidamente le donne chiedevano qualche cosa perché altrimenti venivano licenziate. E in quel momento la miseria a Terni era tanta, tanta che è inimmaginabile. È inimmaginabile quando oggi dico a Terni c'era la fame che dovevamo andare dal comando alleato, dal rappresentante del comando alleato, a chiedere la farina per fare pane. Perché i campi non erano più stati lavorati, non c'era niente, c'era solo una città distrutta, distrutta anche nei sentimenti distrutta. E noi abbiamo tanto lottato per ricostruirla. Le donne della Centurini furono importanti, fecero delle iniziative importanti. Le donne di Centurini sono state una cosa che è inimmaginabile. In quel momento di fame, di miseria, in cui il lavoro era la cosa che dava da mangiare, la possibilità di mangiare, a un certo punto il direttore era d'estate, si presentò vestito di bianco, e questo non ha nessuna importanza, se non che aveva i pantaloni trasparenti e un frustino sulle maniche e girava davanti alle donne. Le donne che avevano sopportato una lavorazione così pesante, un lavoro così pesante, che avevano tollerato tutto, si indigliarono di fronte a questa mancanza di rispetto del loro direttore che organizzarono lo sciopero, al quale si unirono anche coloro che le stavano a sorvegliare. E il sindacato in quel momento mobilitò tutta la città. Fu uno scandalo cittadino. Lei consideri che si presentava anche da pazzaglia, in quelle condizioni, siccome era il caffè frequentato dai comunisti, perché allora avevamo la sede a Palazzo Mazzancolli, quando ci vedeva che entravamo mi guardava con un'aria di sfida e faceva col frustino così, come a dire, te lo faccio vedere io. Invece gliel'abbiamo fatta vedere noi. Smise il vestito. Cambiò vestito. Eh sì, cambiò vestito e lasciò il frustino. Le donne, se per utilizzare bene il voto, perché il voto in quel periodo diventava uno strumento molto importante. A Terni sì. Terni ebbe subito un'amministrazione di sinistra. Anche Amelia. O donne però ne entrarono poche all'inizio. A Terni solo io. E' stata la prima eletta. Sì. E' il primo assessore che poi mi sono trovata in un mare di guai, perché io andai a chiedere aiuto a tutti. Dal segretario generale agli impiegati dell'anagrafe, dell'assistenza a tutti, datemi una mano, perché io non so quello che devo fare. E devo dire che il sindaco Michioti che aveva sostituito il vecchio sindaco perché andava troppo in giro, eccetera, eccetera, bisognerebbe dedicare almeno una strada. È stato un personaggio importante. Adesso se ne è un po' persa la memoria, però molti di voi lo ricordano con simpatia, con affetto. Ma non solo, ma aveva una visione lontana migliore. Tant'è vero che chiamò non uno qualsiasi, chiamò Ridolfi per il piano della ricostruzione. E Ridolfi allora era un architetto, un archistar, diciamo. Sempre uno dei più grandi architetti del Novecento. Era uno dei migliori. Quindi il solo fatto di aver scelto il miglior architetto che c'era per ricostruire la città, per dare alla città... Oggi lo chiameremo un visionario. Ma non lo so. Nel senso buono, cioè uno che ha una visione della città. Vedeva lontano, c'era non il ricordo del passato, perché noi abbiamo cercato di dimenticarlo, il passato. Ma c'era una volontà di andare avanti, di ricostruire. Una voglia di cultura, soprattutto, c'era. Lei pensi che nelle scuole si facevano tre turni e quindi la volontà di diminuire i turni, di dare da mangiare ai bambini, perché c'era anche questo problema, dare da mangiare ai bambini, fare le mense. C'era il problema della tubercolosi e quindi portare i bambini al centro per fare la radiografia, dare l'olio di fegato di merluzzo e bambini. Cioè, c'era tutto un movimento di donne che seguivano quello che noi chiedevamo. E quando io, come assessore, mi trovai, domandai a me, ma io che devo fare? Io non so fare niente. Lui mi disse, guarda, qui ci sta questo libro, leggitelo. Dico, ma che cos'è? Dice, leggi, te lo vedrai che poi lo capirai. Erano le leggi comunali e provinciali. Quindi dice, qui saprai tutto quello che potrai fare. E io però chiesi l'aiuto di tutti e dico che non avrei potuto ottenere tutto quello che ho ottenuto se non avessi avuto l'aiuto del personale del comune. Però da quello che mi sta dicendo, le donne cambiarono mentalità, cioè all'inizio con diffidenza nei confronti del voto, poi... Nel 1948 noi riuscimmo a mobilitarle proprio tutte perché il Partito Comunista è stata una grande scuola. Lasciatemelo dire. È stata una grande scuola perché ha parlato con tutti. Non c'è stato il vecchio che non voleva tirarsi indietro. Si sono tirati indietro. Hanno mandato avanti i giovani. Hanno mandato. Le scuole di partito. Cioè le sezioni dove la sera le donne si riunivano insieme all'uomini che leggevano l'unità la commentavano. Commentavano vie nuove. C'è stato un movimento di cultura oltre che di slancio verso l'avvenire. Di speranza verso l'avvenire. E io questo bisogna dirlo. Oggi invece tutto è liquido. Eh sì è diverso. E alle donne di oggi che cosa si sente di dire anche alla luce dell'esperienza che ha fatto? Che la guerra non è finita. Che bisogna andare avanti. E sono contenta che ci siano delle donne ministro perché eravamo considerate brutte oche che ragionavamo con un certo organo riproduttivo anziché col cervello. Queste ministri sbaglieranno fanno bene hanno un gran coraggio e io sono contenta che ci siano delle donne. Lei pensi che nel 46 nel governo ci fu una discussione per fare un ministro donna all'assistenza e alla la sanità e alla sanità. Ogni membro di governo nel comitato di liberazione aveva diritto a un voto. Allora un voto ai comunisti un voto ai socialisti un voto agli azionisti un altro voto non mi ricordo quale altro piccolo partito di sinistra e poi c'erano i democristiani e i monarchici. Praticamente i voti della sinistra arrivavano a sei anni e Andreotti sempre con il suo spirito caustico e che facciamo il matriarcato disse e quindi questo vuoi immaginare il ministro non si fece più come donna. Sì ci sono delle ministre però ad esempio è anche importante che ci sia un segretario donna alla guida del più grande sindacato d'Italia la CGL Ma era ora io penso che era ora perché a un certo punto i problemi generali non dico i problemi delle donne i problemi generali come rivede una donna mi scusi che lei è un uomo l'uomo ha una visione più limitata perché esclude le donne le esclude questo è importante questa capacità di parlare a uomini e donne è questa la capacità e quindi non è non è il fatto di essere donna è il fatto che il cervello femminile proprio dopo averne subite tante nei secoli io penso che si è sviluppato in maniera più ampia nel vedere le prospettive nel quadro generale delle cose nel quadro della politica e tra l'altro le donne abbiamo detto l'importanza del sindacato ad esempio nelle fabbriche nella centurini però hanno dato anche alla città di Terni una cultura d'apertura che altre città non hanno nel senso che sono state sempre protagoniste anche della vita culturale del modo di pensare ma forse perché eravamo pochi allora e quindi abbiamo creato le basi per uno sviluppo futuro anche se poi i partiti sono crollati quell'educazione che avevamo dato quell'input ad andare avanti a non accontentarsi di quello che ci davano ci davano anche se l'avevamo conquistato con la lotta noi dovevamo come cervello come donne dovevamo sviluppare e dare di più e ci avete messo anche un bel po' a organizzarvi quindi il fatto che ci fosse anche un'organizzazione un sindacato è stata una cosa importante ma vede la prima donna che è diventata dirigente regionale è stata una tabacchina quindi è stata una lavoratrice sono state le donne che lavoravano a Papigno che durante il fascismo portavano magari i volantini ai mariti dentro il portaparanzo e da lì è nata l'organizzazione e da lì è nata l'organizzazione le donne hanno in mano il futuro l'ultima cosa che voglio chiedere tornando un po' al ricordo quel giorno del primo voto come l'ha vissuto se lo ricorda dal punto di vista personale proprio guardi il giorno del voto non è che l'abbiamo vissuto come una grande vittoria come donne perché non ci stavamo però l'abbiamo vissuto in una maniera politica la cosa abbiamo capito che dovevamo andare avanti che niente ci sarebbe stato regalato è bastato proprio quel decreto che involontariamente penso perché nessun membro del comitato di liberazione nazionale l'ha fatto con cattiveria però c'era nell'ambiente diciamo nel retaggio del fascismo considerate considerare la donna solo addetta alla casa ai figli le pensi le battaglie demografiche con le povere contadine che ho 7-8 figli portati a prezzo e che magari nessuno andava a scuola perché non c'erano i soldi per comprargli i libri c'era la consapevolezza politica che iniziava un percorso difficile questo primo voto con l'esclusione proprio delle donne ha dato alle donne la consapevolezza del loro valore della necessità delle donne nella politica nel sindacato le donne nel sindacato hanno dato tanto però siamo arrivati dopo 70 anni quasi di uomini che hanno diretto il sindacato per avere una donna e questo spiega tutto che la battaglia non è finita che noi donne ormai io sono nel passato e non sono nel futuro però dico alle donne non disperate combattete andate avanti che vinceremo grazie a tutti Grazie a tutti.